Allora, 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 oggi tanti spunti, oggi tanti 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 spunti in Milan-Lecce, Milan che batte in Lecce, Milan che porta a casa tre punti importantissimi nella lotta per la UEFA Champions League, ma oggi tanti spunti. Il primo in assoluto è quello di seguirmi su Instagram, simonesicolf-basso-official, venite a seguirmi in questo momento perché altrimenti ve ne pentirete, perché nel primo maggio regalerò a uno di voi una maglia della vostra squadra del cuore e quindi tra i miei follower c'è la possibilità di vincere uno di voi la maglia della vostra squadra del cuore. Detto questo, arriviamo agli spunti veri, a parte che avete visto lo striscione che tanto ha fatto parlare dei tifosi del Milan verso il Napoli, che ha scritto non ti preoccupa, ci sta un Napoli fuori, mi ha fatto ridere. Io credo che i napoletani non debbano arrabbiarsi, in realtà credo che i napoletani debbano essere contenti dello striscione, ma perché quando poi ti dedicano uno striscione, è vero che comunque ti hanno buttato fuori al quarto di finale di Champions League, però se fosse stata tipo, che ne so, una super Fiorentina arrivata ai quarti di finale di Champions League per poi uscire, io non penso ci sarebbe stato tutto quest'astio. Il fatto che ci sia questo astio è perché il Napoli, per forza di cose, per le qualità che ha, per le situazioni che mette in campo, sta facendo quello slancio in più, quello step in più, per diventare di fatto una big, una big del calcio italiano ed europeo. E quindi quando poi tu dai quell'importanza, la dai principalmente perché ti rendi conto che comunque hai fatto fuori una squadra molto molto forte. Cioè quindi io più che una presa in giro, che è uno sfottocista, è sicuramente accettabile, ritengo che questo striscione sia comunque, vada un pochino a responsabilizzare quella che è la figura del Milan. Poi un altro spunto di riflessione sono i capelli di Dea Fernandez, se un giorno mi doveste mai vedere quei capelli di Dea Fernandez, veramente regà, sparatemi. Anzi, vi dirò di più, mi farò i capelli di Dea Fernandez, il giorno che la Roma vincerà lo scudetto. Quindi, quindi mai. Però regà, mamma mia che brutti. Cioè a un certo punto c'è avuto una palla Dea Fernandez, è arrivato un pallone, proprio nel finale, quando erano già 2-0, ha tirato d'esterno piede, tipo, in culo. Ma quello sono i capelli, cioè quello che gli fanno capire incazzi i capelli, gli fanno prendere il segnale sbagliato del cervello. A parte questo, e poi un altro spunto, cioè l'arbitraggio. Ora io non voglio essere cattivo, no, alla fine del Milan ha vinto, quindi poi gli interesserà anche poco il punto di vista dell'arbitraggio ai rossoneri. Però madonna che schifo. E ve lo dico da romanista, cioè io oggi ovviamente mi auguravo di una vittoria, di un colpaccio del Lecce o di un pareggio. Però, tanto la luce sta sparfallando, però delle volte sarebbe opportuno cercare di capire che se un arbitro si comporta nel modo in cui si è comportato oggi il fischietto di Mila-Lecce, poi le partite prendono una piega comprensibile, non ispiegabile, comprensibile, però è inaccettabile. Perché se il Milan oggi prende 447 falli, Blin penso che abbia messo in cinta tre quarti dei giocatori del Milan a forza dei carci, e non prende mai un cartellino giallo, tu dai l'attenuante per continuare a riempirti di calci. E io questa cosa, ragazzi, la voglio sottolineare perché l'avrei sottolineata se si fosse parlato di Roma, la sottolineo se si parla di Milan. Cioè se tu mi prendi a carci per 90 minuti, raga, il Lecce quanti già li ha preso? Se non mi è zero, forse uno, ma il Lecce non ha preso praticamente mai i gialli, no? Ma nel primo tempo è stato un... c'era massa? C'era massa che arbitrava se non sbaglio. È stato un continuo, solo calci, 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 un continuo. Solo botte ha preso il Milan. E tipo Blin, se non sbaglio, due o tre gialli li meritava nel primo tempo. Quindi per me è una cosa che personalmente non riesco a comprendere perché poi tu, così facendo, rischi di falsare anche una partita. Perché se tu non dai un cartellino giallo, magari devi dare al terzo minuto, al decimo minuto, al quindicesimo minuto, tu per tutto il resto della partita dai la possibilità a quel giocatore di continuare a menare come se non fossi ammonito perché ammonito non è. La prima chance della partita del Milan c'è la Tonali che tira fuori. Poi però arriva subito la chance dall'altra parte perché Banda prende un calcio di Rigosi, un calcio di Rigosi, prende un palo, perdonatemi, prende un palo che ancora trema, lì sbaglia lui perché lì la palla tu la devi mettere dentro. Io penso che se Lecce fosse andato in vantaggio con la palla di Banda avremmo parlato di tutt'altro. Ma adesso Milan e Inter, soprattutto dopo la penalizzazione tolta la Juventus, si stanno rendendo conto che se non cominciano a correre, abbiamo visto l'Inter oggi, abbiamo visto il Milan adesso, perché se Inter e Milan non cominciano a correre i ragazzi finiscono fuori dalla Champions League. Cioè perché adesso mancano otto giornate, dopo questa sette giornate, e la Roma c'è un importante match a Bergamo, la Juventus va a Napoli, oggi era obbligato, forse Juve-Napoli, Napoli va a Torino però insomma c'è il Napoli, oggi per il Milan era obbligatorio vincere, cioè non c'era nient'altro a mio avviso da fare se non vincere. Poi viene dato un calcio di rigore al Milan che viene tolto, ecco in questo caso credo che sia giusto così, cioè non capisco proprio come abbia fatto a dare rigore in realtà, mi sembrava anche dal vivo che non fosse rigore. Baschirotto prende palla, prende praticamente solo palla, la prende prima proprio piena la palla, e la toglie dalla disponibilità di Deo Hernandez, quindi quello non esiste nessun calcio di rigore. Per fortuna in quel caso è stato tolto, perché altrimenti quando poi comincia a fare danni, di qua e di là addirittura suonano da danni riparatori, che vuol di doppio danno, quindi personalmente ero lì in attesa di augurarmi che non sarebbe successo appunto che l'arbitro desse un rigore al Milan inesistente. Poi il Milan il gol lo trova, e lo sapete con chi lo trova il gol il Milan? Con Rafa Leao, un Rafa Leao. Regà, il calcio è semplice, il calcio è semplice. Se tu sei Rafa Leao e giochi da trequartista, e trequartista non è il tuo ruolo, anche perché Leao quando giocava a due in attacco, perché è stato un periodo in cui Leao giocava alla seconda punta, faceva cagare l'inizio al Milan, poi se lo spostano da ala e ha distrutto tutto. Quando il Milan è passato alla difesa a tre, io capisco che c'era un'esigenza secondo cui tu devi passare alla difesa a tre, però quantomeno allora facevi il 3-4-3, non che facevi il 3-4-2-1, perché con il 3-4-2-1 magari riuscivi ad ottenere il massimo dai tuoi centrocampisti, è una fase difensiva perfetta perché il Milan non prendeva mai gol, però in attacco Leao non buttava dentro la palla manco per sbaglio. Gli hai rimesso Leao largo, l'hai fatto riallargare, Leao sembra essere tornato il Leao dello Scudetto dello scorso anno, che poi vabbè, un a zero in realtà lo fa di testa, che è una non specialità della casa, perché Leao di testa non segna mai, questo è un gol che mi aspetto da Giroud piuttosto che da Leao, però lo fa Leao di testa tra l'altro su una scodellata di Donali su calcio piazzato, io credo che se il Milan non avesse trovato la rete del vantaggio da calcio piazzato, la partita poteva veramente prendere una piega non positiva per i rossoneri, anche perché, andando un po' a memoria, secondo me dopo il gol dell'1-0, cioè quello, scusatemi, dopo la prima occasione, quella di Donali, il gol dell'1-0 è la seconda occasione del Milan e arriva al quarantesimo, cioè quindi Lecce, sotto questo punto di vista, a mio avviso, fa una partita difensiva praticamente perfetta, poi però ovviamente dall'altra parte c'è il Milan, e se c'ha quel calcio piazzato quello o quell'altro, magari il Milan il gol riesce a farlo, fa anche il 2-0 poi Leao, lo fa, tra l'altro mi fa ridere perché Pioli voleva levare Leao, c'ha avuto un'occasione gigantesca, se l'è mangiata facendo un cucchiaio, completamente a caso, cioè quel cucchiaio è brutto quanto la fame, quando forse, non lo so, parlo da casa, parlo dal mio studio qua, forse, non lo so, gli sarebbe bastato allargare col piattone, non lo so, fa, fa un, ok, o brutto, tant'è che Pioli si incazza, lo lascia in campo, fa gol, fa un gol bellissimo, dopo il gol dice, ok, finalmente posso levarlo, lo toglie e fa entrare Orighi, gol bello, gol bello, gol super, lui vola sulla fascia, tira questa botta, palo, gol, che botta manco è in realtà, è un po' più piano di una botta, pre, palo, gol, ed è il gol che chiude di fatto, la partita, contro, ripeto, una squadra che è alla portata, cioè nel senso, parliamo pur sempre del Lecce, non è che il Milan ha battuto il Napoli, l'ha battuto in realtà nel doppio scontro, tre giorni fa, quattro giorni fa, oggi però i rossoneri dovevano dimostrare, seppur con tutta la stanchezza del caso, perché la stanchezza, ragazzi, c'è, è presente, il Milan quest'anno sta facendo un botto di partite, poi, per forza di cosa, ha fatto anche un discreto turnover, perché a destra, invece che Selma, giocava Messias, perché davanti, invece che, invece che Giroud giocava Rebic, perché in mezzo al campo, invece che Benazer giocava Krunic, qualcuno, i più attenti mi diranno sì, ma nel doppio scontro con il Napoli, Benazer faceva il falso, il finto trequartista, non faceva il mediano, sì, ma non c'era né da finto trequartista e né da mediano, perché dietro non c'era Kier, in realtà poi entra Kier, ma non c'era, non c'era manco Calolù, giocava vicino a Tomori, Calolù c'era, ma giocava a destra, perché? Perché il Milan comunque non ha voluto giocare a tre, ma ha voluto giocare a quattro, e quindi ha messo Calolù ad attare a destra, che poi ha adattato manco troppo, perché lì giocava al tempo, ecco, il Milan un pochino, un pochino di turnover lo fa, un pochino di turnover il Milan lo fa, lasciando in panchina qualche calciatore prezioso, detto questo, focalizziamoci sulla classifica, perché vabbè, Napoli, ok, la Lazio ha 61, e a questo proposito, io ve lo dicevo ieri, e voi non ci credevate, la Lazio che perde in casa contro il Torino, è un risultato pessimo per la Lazio, ma è veramente brutto, perché la Juve se vince la Super E, la Lazio arriva a terza 61, la Roma si è fatta raggiungere dal Milan a 56, ma deve ancora giocare, l'Inter è a 54, vuol dire che la Lazio, se dovesse disgraziatamente perdere un'altra partita, mettiamo anche che la Roma domani vinca a Bergamo, cosa che per me non accadrà, però ci proviamo, e la Juventus vince con il Napoli, se la Lazio dovesse perdere un'altra partita, con le altre che vincono, perché può accadere, la Lazio si troverebbe a 61, con la Juve in quel caso a 64, e quindi, 59, 65, ok, la Roma sarebbe a 59, 62, quindi la Lazio sarebbe quarta, il Milan sarebbe a 62, quindi la Lazio sarebbe quinta, l'Inter 54, 56, no, il Milan sarebbe a 59, quindi a meno 2 dalla Lazio, e l'Inter sarebbe a 57, quindi diciamo che la Lazio non è tanto distante da lì, sicuramente sta messa in una posizione discretamente buona, per avere un cuscinetto, sicuramente sta messa peggio la Roma, che se domani dovesse perdere a Bergamo, il Milan l'avrebbe raggiunta, e sarebbe anche a più 2 solo dall'Inter, però comunque, al momento insomma, la situazione non è semplicissima, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, tantissimi mi piace, buo ce l'alline come sempre, ci vediamo un prossimo video. Ciao!